Grande successo dello Stage for Dance organizzato a Delbano Limits domenica scorsa. Numerosi giovani e gli appassionati che hanno partecipato ai corsi Raga di Belen Peralta, Hip Hop di Fabrizio Santi e Salsa di Amani Kidego. È il primo di una serie di appuntamenti che l'associazione Onlus ha intenzione di ripetere nel corso dell'anno all'insegna della danza e del divertimento. Entusiasti anche gli insegnanti, in particolar modo Belen Peralta, che ha espresso il desiderio di tornare al più presto. Non poteva essere diversamente per Fabrizio Santi, il noto coreografo toscano, che da tempo collabora con l'associazione allestendo coreografie insieme agli allievi dei corsi di Jazzercise. Ormai sono tanti anni che vengo qua e la situazione è già sperimentata, però tutte le volte che vengo è sempre un'emozione nuova perché troviamo gente nuova e oltre ai soliti vecchi amici si aggiungono sempre di nuovi e sempre con lo stesso entusiasmo, sempre con la stessa voglia di ballare. Quindi è sempre un'emozione nuova e diversa dove si forma sempre un'energia bella e positiva non solo dentro la sala e durante la lezione ma anche fuori quando andiamo a cena o stiamo insieme semplicemente a parlare. A sorpresa, Peralta e Santi hanno assegnato due borse di studio a due giovani allievi della Jazzercise, Costanza Squarci per il Ragga e Samantha Ridi per l'hip hop. Queste permetteranno loro di partecipare gratuitamente allo Stage Med, musica, arte e danza, che organizzato insieme alla Blacks Studio, prevede diversi appuntamenti in giro per l'Italia.